Buongiorno a tutti prima di tutto. Questa sessione parte un po' indietro nel tempo, circa nel 1600, quando i primi coloni olandesi arrivarono nell'attuale Australia e scoprirono per puro caso che i cigni lì erano neri. Questo episodio colpì molto questi esploratori, tant'è che i diari di bordo dell'epoca, che poi sono stati ritrovati in Olanda, erano pieni zeppi di questo tipo di racconto. Tanto al punto da influenzare, anni e anni dopo, nel 2007, un libro che è diventato poi un best-seller, che è Il Cigno Nero, scritto da Taleb, e il sottotitolo di questo libro è Come l'improbabile governa la nostra vita. E parliamo appunto di improbabile. Qui tra noi non penso ci siano esploratori, avventurieri, quindi la possibilità di trovare nuove specie animali sono abbastanza basse, però sicuramente nella vita di tutti i giorni, soprattutto quella lavorativa, sicuramente possiamo avere a che fare con l'imprevedibile, l'imprevisto, qualcosa che non avevamo previsto inizialmente. Ad esempio, deploy il venerdì pomeriggio che ci va male e ci rovina il weekend, ci siamo passati tutti. E come facciamo a ridurre l'effetto di questo imprevisto? Perché appunto non è improbabile, ma sicuramente è imprevisto in molti casi. La prima regola, e questa non la sa nessuno, è non fare i deploy il venerdì. Soprattutto non farli alle 5 di pomeriggio. E il corollario di questa regola è farli il martedì, non il lunedì, magari la domenica si è mangiato pesante, soprattutto dalle mie parti, quindi si fanno il martedì, dopo il primo caffè. Scherzi a parte, per non essere bannato a vita dalle conferenze che hanno DevOps nel nome, e proviamo a essere un attimo più seri. Per ridurre l'imprevedibilità, si è fatto tanto negli anni, da ambo i lati, sia per quanto riguarda la parte operation, quindi con l'introduzione di tutto quello che riguarda infrastructure as code, pipeline, deployment progressivi come Canary, piuttosto che Blue Green, e così via. Mentre invece, diciamo, lato sviluppo, si è parlato principalmente di test. Test che vuol dire tante cose, in tanti contesti diversi. Io personalmente ho iniziato testando il classico monolite, quindi l'applicativo Java enorme, con migliaia di righe di codice all'interno, e il primo approccio con questo tipo di testing è sempre di tipo testing unitario. Quindi si prende un pezzo, un modulo, una funzione di quel monolite, e lo si prova, lo si testa, appunto, in isolamento, da qui il termine unit test. Per esempio, banalmente, un qualcosa che fa la somma dei due numeri, io lo provo con due input arbitrari, e confronto se poi il risultato è effettivamente quello atteso. In codice abbiamo, ad esempio, una classe con un metodo all'interno che fa semplicemente la somma, questo è un esempio banalissimo, e il test segue un pattern più o meno comune, che è quello dell'arrange act assert, e quindi instanzio il sistema under test, eseguo la funzione, e poi verifico che effettivamente il risultato sia quello atteso. Test dopo test, potrei arrivare al sacro graal del testing, che è la cosiddetta code coverage del 100%. Questo spesso è anche una vanity matrix, nel senso che non necessariamente avere il 100% di copertura dei test è necessariamente utile, o ci salva necessariamente da quel tipo di problema, però di sicuro aiuta, soprattutto se i test sono fatti bene. Poi abbiamo test di integrazione, quindi non vado a isolare il componente, ma lo vado a provare in un contesto più o meno reale, ad esempio testando quello che potrebbe essere la connessione a un database, piuttosto che a una coda, e così via. Ad esempio, GetCustomer lo provo con l'ID5, e vedo che poi effettivamente mi ritorna quello che mi serve. E infine, a livello più alto di astrazione, abbiamo il testing end-to-end. Quindi vado a provare, magari utilizzando anche la UI, tutto il flusso. Magari vado ad identificare un paio di flussi funzionali che sono utili, e li vado ad automatizzare con Selenium, piuttosto che altri tool simili. Negli anni si è parlato anche molto della cosiddetta test pyramid, cioè quindi la piramide dei test che dovrebbe più o meno dire, grosso modo, qual è la quantità più o meno di test da fare e come dividerli. Il peso maggiore ce l'hanno Union Test, poi Integration Test, è solo una minima parte, è riservata al testing end-to-end. Questo per due buoni motivi. Il primo è perché i unit test sono molto veloci e sono affidabili. Mano a mano che saliamo la piramide, i test iniziano a diventare più complessi, proprio da configurare, iniziano a diventare più lenti e soprattutto iniziano a diventare meno affidabili. Soprattutto gli end-to-end test. Chiunque avrà avuto a che fare con dei test fatti con Selenium, sa quante volte dà dei risultati inaffidabili. Ed è questo il motivo per cui troviamo questa suddivisione del test. E fin qui le cose sono abbastanza, tra virgolette, diciamo, semplici. Una volta che si inizia a fare un po' di pratica, sappiamo che scrivendo dei buoni test unitari, avendo una code coverage decente e accertandoci di dare ai test lo stesso valore che diamo al nostro codice, possiamo salvaguardarci da buona parte dei problemi inaspettati. Le cose iniziano a diventare molto più complesse quando ci spostiamo invece nell'ambito dei microservizi. Questo perché quando abbiamo a che fare con dei microservizi, tipicamente, sempre, quello che abbiamo è sono tanti progetti diversi, tanti pezzi di progetto che sono autonomi e indipendenti, proprio per definizione del concetto di microservizio. Magari stanno anche in due repositori diversi. Quindi che succede? Succede che magari io faccio, mi approccio con le stesse logiche che avevo sulle architetture monologiche e cosa faccio? Cerco di dare il 100% di code coverage a tutti i miei microservizi. Domanda. Questa cosa qui mi aiuta come mi aiutava precedentemente? Per niente. il vantaggio che io posso avere dal 100% di code coverage in un monolite è molto più alto rispetto ad avere il 100% di code coverage su tutti i microservizi del mio sistema. Questo perché? Andando un po' a filosofeggiare potremmo dire che il tutto è più grande della somma delle parti. Che vuol dire? Vuol dire che se i microservizi sono le mie parti con tutte le funzioni all'interno tutto quello che può essere la business logic il tutto è questo qui che vedete cioè i microservizi più la comunicazione che c'è tra i microservizi. E quando parliamo di comunicazione tra i microservizi anche qui si apre un mondo mentre in un monolite abbiamo grosso modo tutte chiamate intra processo quindi sono molto veloci se cambiamo un metodo magari il compilatore quando andiamo a fare build se ne accorge dice guarda qua si chiama così dall'altro lato no e quindi ce ne accorgiamo nel momento in cui abbiamo due progetti diversi su due repository diversi e sull'altro repository magari neanche ci accediamo perché è gestito da un altro team le cose si fanno più complesse. e abbiamo due modalità di comunicazione la prima quella più semplice è la classica request response sincrona quindi ad esempio il microservizio check out fa una chiamata verso il microservizio customers su un API HTTP quindi dice dammi il cliente call numero 5 e customers risponde bene facilissimo ora che succede però se di punto in bianco customers decide di cambiare il payload di risposta immaginiamo che first name lo chiama name e last name lo chiama surname ovviamente check out va in errore è chiaro in questi casi i primi a riscontrare un errore sono sempre quei microservizi che in quel momento stanno agendo come consumer cioè sono quei microservizi che stanno consumando un'informazione e quindi in questo caso le logiche come potete immaginare le logiche che abbiamo approcciato per gli unit test non vanno più bene dobbiamo trovare un modo nuovo per testare questi microservizi e soprattutto li dobbiamo iniziare a testare nell'ottica del consumer perché sono loro che vanno in errore quando qualche microservizio cambia il tipo di risposta e quindi quando ci approcciamo ai microservizi è molto utile questo tipo di test che vedete qui che viene definito consumer driven contract testing che è uno scenario di test completamente diverso rispetto al testing unitario di integrazione per il semplice fatto che si svolge in due momenti diversi il primo test che faccio il primo momento è quando implemento il check dal punto di vista del consumer quindi vado a definire dell'expectation vado a definire quello che il consumer si aspetta di ricevere e vado a creare un contratto ed è un vero e proprio contratto nel senso che viene creato un file JSON dove sono definite tutte le attese tutte le modalità che il consumer accetta esiste un framework che si chiama PACT che definisce e ci dà la possibilità di definire questo tipo di testing e quello che vedete qui è in maniera molto semplificata ovviamente quello che è il test dal lato del consumer e qui con una fluent interface sto semplicemente dicendo quando il mio consumer fa una richiesta ad esempio su slash customers slash 5 con un metodo di tipo get si aspetta una risposta con uno status HTTP 200 e un JSON con questo tipo di risposta ok quando vado ad eseguire questo test tutto quello che succede è che viene creato appunto questo file JSON di contratto file JSON che se ne sta lì da qualche parte è buono fin tanto che il producer cioè chi deve produrre l'informazione che poi viene consumata dal consumer fa una modifica per esempio e allora a valle di quella modifica decide di validarla e quindi decide di verificare questa modifica contro il contratto in questo modo se il customer ha aggiunto la classica breaking changes perché magari ha cambiato un nome in questo modo se ne accorge e se ne accorge prima di poter fare deploy o di poter addirittura mettere in produzione questo tipo di modifica e lato producer il test è completamente separato qui qual è il vantaggio è che essendo in due momenti diversi e anche su due pezzi di codice completamente diversi quindi il test il codice del test del producer è sul repository del microservizio producer il codice del test del consumer è sul repository del microservizio e qui semplicemente vado a dire ok testami il provider il producer sono finonimi sfruttando questo contratto e quindi qui vado a fornire poi quello che è il json del contratto cosa interessante pact mette a disposizione anche un broker quindi posso mettere tutti i contratti json in un punto centrale e tutti i consumer e tutti i producer vanno verso quel punto centrale che funge appunto da broker la seconda modalità di comunicazione per i microservizi è quella message based quindi a questo punto se abbiamo due microservizi abbiamo un microservizio orders che funge da producer e un checkout che funge da consumer orders invia un messaggio fire and forget quindi invia il messaggio e poi smette di funzionare e questo messaggio viene poi preso in carica da checkout che con quel messaggio deve continuare il flusso di lavoro come possiamo fare in questo modo? più o meno conservando le stesse logiche quindi il consumer produrrà un contratto definendo quelle che sono le sue attese e qui il codice è leggermente diverso dico semplicemente attendo di ricevere e con una diciamo sintassi alquanto human readable vado a dirmi aspetto di ricevere un evento di tipo order confirmed con questo JSON all'interno a quel punto viene creato il il contratto JSON e il produttore dell'informazione va a verificare che effettivamente quando invia quel tipo di messaggio il contratto viene soddisfatto e il codice qui anche è leggermente diverso perché questa volta il provider può fornire diversi messaggi ok esempio in questo caso è un order confirmed ma potrebbe essere order denied order rejected ogni provider può inviare diversi messaggi e quindi qui come vedete c'è la possibilità di definirne più di uno io in questo caso ho definito solo order confirmed e vado a scrivere utilizzando proprio un oggetto order confirmed quelli che sono i campi che voglio voglio andare ad utilizzare qualora ad esempio order confirmed cambiasse questo order id prende un altro nome quando vado a validarlo contro il contratto pact se ne accorge e mi dice guarda stai provando a usare questo nome forse volevi usare quest'altro e quando siamo nell'ottica dei microservizi la piramide dei test cambia leggermente ovvero il test di integrazione diventa un po' più piccolo il consumer di contract testing diventa assolutamente fondamentale e gli unit test stanno ancora lì ma per definizione nella letteratura il codice dei microservizi dovrebbe essere abbastanza semplice abbastanza leggibile c'è la famosa regola del one week replacement che un microservizio dovrei poterlo buttare via e riscriverlo e dovrei riuscirci in grosso modo una settimana ovviamente è un'euristica ma fa capire bene che il codice all'interno dei microservizi non dovrebbe avere troppi branch logici non dovrebbe essere troppo complesso quindi il vantaggio degli unit test non sempre è così grande ovviamente dipende da caso a caso e come vedete il testing end to end scompare completamente questo perché perché pensare di metter su tutto il sistema di tirar su tutti i microservizi per fare un test end to end e un bagno di sangue è faticosissimo e i risultati probabilmente lascerebbero anche molto a desiderare e infine poi arriviamo al mondo serverless quindi come testare le architetture serverless prima di provare a dare questa risposta dovremmo chiederci cosa sono le architetture serverless perché qui cambia completamente il modo con cui ci approcciamo sia allo sviluppo sia alla gestione del progetto perché nel classico monolite io ho per quanto sia DevOps per quanto i miei team siano aggiornati e siano al passo coi tempi il codice che gestisce l'infrastruttura sta da una parte il codice che è la mia business logic che il mio applicativo sta da un'altra non hanno molte occasioni di incontro invece nelle architetture a microservizi tutta questa logica è molto più sfumata e molto più labile e anche il concetto stesso di microservizio cambia nel senso che se nelle architetture classiche a microservizi quando sono nate venivamo subito portati con la mente a pensare ai container pensare a docker che rappresentavano un un recinto fisico per il nostro microservizio nel mondo serverless questo concetto non è più vero perché non ho magari il container che raggruppa tutta la mia business logic di quel microservizio ma magari ho tante lambda function ho una step function che orchestra un workflow e quindi il concetto di microservizio diventa di fatto qualcosa di molto più logico che fisico e quindi all'interno poi di questo raggruppamento logico io mi trovo le lambda mi trovo DynamoDB mi trovo SQS e tutto quello che appunto fa parte di quel contesto e di quel microservizio e come cambiano i testi in questo caso cambia completamente la forma geometrica tra virgolette perché spesso quando si parla di testing delle architetture serverless si tende a parlare di Onecom quindi ha questa forma strana dove i unit test stanno sempre lì nel senso i unit test sono la nostra bussola diciamo l'euristica che potremmo avere quando la mia logica di business inizia a diventare un po' più complessa quindi iniziano ad esserci branch logici iniziano ad esserci condizioni e flussi diversi allora a quel punto uno unit test per garantirmi di rispettare di mantenere quella logica è sempre utile inizia a diventare molto più importante invece gli integration test perché? perché nel momento in cui il mio codice di business è assolutamente fuso con il codice della mia infrastruttura può capitare che io magari andando a toccare la mia lambda per per distrazione per errore magari vado a toccare le unit di DynamoDB e quindi cambio il tipo di potenza tra virgolette che vado a riservare per DynamoDB potrebbe capitare che ad esempio cambio il ruolo e quindi quella lambda lì non riesce più a scrivere su DynamoDB o non riesce più a leggere e se vado a mettere quella cosa lì in produzione è un bel problema e soprattutto anche in questo caso consumer driven contract testing diventa fondamentale perché? perché le architetture serverless per definizione funzionano bene in maniera sincrona funzionano bene quando ci sono degli eventi che circolano piuttosto che delle lambda che si chiamano tra di loro e questo riguarda lo scenario del testing ma c'è un qualcosa che nel mondo serverless inizia ad essere sempre più visto sempre più con attenzione ed è sempre più utile e potremmo dire se un qualcosa non è prevedibile se è un errore non è prevedibile in anticipo cosa facciamo noi? cerchiamo di introdurre quella non prevedibilità nelle nostre applicazioni e quindi ci chiediamo ma cosa succede se ad esempio questa lambda va in timeout oppure cosa succede se la memoria messa a disposizione di questa lambda non è più sufficiente? come si comporta tutto il contesto dell'applicazione o se questo se questo se questo DynamoDB non ha più di unità sufficienza qualcuno se ne accorge di questa cosa qui o vado ad inserire un errore in produzione senza che nessuno se ne accorga finché non è troppo tardi tutte queste pratiche che non fanno parte del testing vero e proprio ma diciamo camminano in maniera parallela prendono il nome di Chaos Engineering famosissimo il caso di Netflix e delle Chaos Monkeys che andavano a buttare giù delle macchine per vedere se poi l'intero sistema era resiliente a questo tipo di errore possiamo fare benissimo un qualcosa del genere con le nostre applicazioni serverless tra l'altro da qualche anno all'interno di AWS esiste un servizio che si chiama Fult Injection Simulator che va proprio a simulare anzi va ad iniettare proprio degli errori e possiamo pilotare appunto degli esperimenti di Chaos Engineering anche nel mondo serverless al di là della cosa cool che potrebbe sembrare lo fa Netflix lo faccio anch'io e così via c'è un problema di base in questo scenario e c'è un'utilità nell'applicare una logica del genere è il fatto che appunto una cosa è imprevedibile e noi non sappiamo come si comporterà l'intero sistema quando poi avverrà questa cosa perché prima o poi avverrà e quando parliamo di Chaos Engineering in realtà è nato all'interno di Amazon non di Netflix e una delle prime persone che fece quello che all'epoca non si chiamava ancora Chaos Engineering all'interno di Amazon e un certo Jesse Robbins che aveva sul titolo sul biglietto da visita era Master of Disasters e praticamente il primo esperimento di Chaos Engineering che faceva era andare nei data center di Amazon e staccare i cavi dai server a caso senza neanche chiedersi troppo un po' come quello che ha fatto Elon Musk quando è andato a staccato le cose di Twitter e poi cronometrava vedeva quanto tempo ci impiegava il team per accorgersene e questa cosa qui è interessante perché in realtà Jesse Robbins è stato un pompiere volontario prima di entrare in Amazon e diceva una cosa che l'istruttore alla scuola gli ripeteva sempre ovvero tu non scegli il momento è il momento che scegli te e l'unica cosa su cui tu ti puoi preparare è come agisci quando quella cosa lì avviene non a caso i pompieri non vengono mandati sugli incendi reali direttamente ma fanno un periodo di addestramento utile a capire come comportarsi in quel contesto lì ed è lo stesso che dovremmo fare noi nel senso che non dovremmo andare a risolvere gli errori o dire ok questo è il mio piano di disaster recovery funziona perché l'ho provato e poi in realtà quando avviene in produzione le variabili sono sempre diverse e quel test quel disaster recovery lì non funziona più detto questo cosa ci portiamo dietro sicuramente che gli unit test sono ancora fondamentali sono ancora utilissimi perché sono veloci e sono precisi consumer driver contract testing nel test tra un microservizio e l'altro tra una funzione lambda e l'altra è sempre qualcosa di utile integration test sono nevralgici nello sviluppo in un contesto serverless cerchiamo di rendere prevedibile quello che non lo è e nel sul mio blog ho scritto due articoli che un po' raccontano quello che ci siamo detti in questa mezz'oretta il primo è perché non possiamo fidarci degli unit test quando abbiamo un sistema microservizi titolo volutamente un po' provocatorio e come il chaos engineering può aiutarci a scrivere del software migliore e io sono Mariano ci siamo presentati prima grazie e questo che vedete è il QR code del mio blog cortesia che vi chiedo a nome di tutti a nome dell'organizzazione questo è il QR code per votare la sessione fotografatelo e datemi tutti i feedback che volete vi ringrazierò sempre tantissimo e l'ultimo QR code è un link per le carriere io lavoro in bar group come solution architect e cerchiamo sempre persone interessanti quindi se vi va di dare un'occhiata lascio lì il link premessa io ho sempre solo parlato di AWS in questo intervento ma perché ci lavoro tutti i giorni e mi viene comodo fare gli esempi con AWS ma il discorso che abbiamo fatto è assolutamente trasversale a qualunque tipo di cloud e a qualunque tipo di scenario quindi è un discorso molto di alto livello e vi verrà utile sempre grazie mille grazie Mariano molto molto interessante è un tema che apprezzo tantissimo abbiamo tempo per una domanda se una un paio di domande insomma ce la facciamo eccolo ciao io avevo una domanda sul contract testing tu negli esempi hai fatto sempre il riferimento mi sembra a fatto che i micoservizi fossero sviluppati in casa quindi il consumer sa qual è il producer e viceversa in uno scenario in cui invece il consumer è esterno quindi non lo so faccio delle API pubbliche come si applica se si applica il concetto lì il discorso è un po' diverso nel senso che nel momento in cui tu esponi un API lì non c'è tanto una questione di dire posso testare o non testare quelle cose lì l'unica cosa che puoi fare tu come produttore anche perché se stai fornendo al mondo le tue API probabilmente la useranno in migliaia di persone ognuno la usa in modo diverso perché poi non è detto che io se cambio un nome del del json che ritorno della proprietà del json che ritorno creo necessariamente un errore al consumer perché magari il consumer quella proprietà che io ho modificato non la usa e quindi diventa difficile per te non conoscendo quali sono i consumer come vai a comportarti e si creerebbe un'esplosione combinatoria di cose quello che puoi fare è utilizzare lì un versionamento ad esempio delle tue API quindi quando introduci una breaking changes cambi magari la measure del tuo semantic versioning in modo che i consumer sanno che se fanno un upgrade di versione magari si rompe qualcosa se invece fai bug fixing modifichi l'ultimo numero della versione se vai ad aggiungere un campo ma quindi aggiungendo il campo non stai facendo di fatto una breaking changes modifichi il secondo numero del versionamento e li gestisci un po' poi lì sono i consumer che devono gestirsi in autonomia di fronte ooooh 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 Grazie a tutti.